come è stata vostra altezza in questi molti giorni? bene, bene, bene Monsignore, ho qui certi vostri ricordi sei onesta, sei bella chi intende dire vostra altezza? si farà prima la bellezza trasformando l'estate in una... non si guarda che non la prima, la seconda, la sua immagine è somiglianza io ti ho amato una volta così di fatti mi facessi credito successo così di fatti mi facessi credito io non tommai, mia madre vattene in un convento vuoi farti matrice di peccatori? vedi, io sono onesto quanto un altro pure posso accusarmi di colpe tali che meglio sarebbe stato per me mia madre non mi avesse partorito mai, io sono ma che progente della mia risma sta ancora a strisciare qui fra cielo e terra non mi avesse partorito ma siamo tutti o qua passa ecco giù delle porte su lui così lo scemo lo fa soltanto a domicilio addio addio sei povero vai sposarti devi sposare un pezzo quegli uomini savi sanno abbastanza bene che mostri ne fate che mostri ne fate io ho sentito parlare parecchio anche delle vostre pitture bello 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 io vi da una faccia e voi vi ne fate un'altra e voi saltellate dimenate il culo spettegolate la vostra lascivia chiamate neve basta sono queste cose che mi hanno fatto impazzire io te lo dico un convento addio